Su questa DoD Journey abbiamo installato un sistema di intrattenimento audio-video con monitor posteriore e collettore DVD-DVX integrato e anteriormente, oltre al suo monitor già presente originale, abbiamo aggiunto un monitor incassato nella parte superiore del cruscotto con un supporto costruito interamente da noi e verniciato. L'audio del monitor posteriore viene ascoltato con gli altoparlanti originali tramite la commutazione FM e può essere anche visualizzato nel monitor anteriore. Anteriormente si può scegliere però di passare sulla fonte di navigazione ovviamente europea in SD card Il navigatore funziona con il suo JPEG e può visualizzare la cartina in 2D e in 3D In questo modo chi è davanti può navigare e chi è seduto posteriormente può continuare a guardare su DVD o DVX In questo modo chi è disordine